L'Associazione Culturale Il Melograno, con il patrocino del Comune di Adelfia, ha presentato presso l'auditorio in Biblioteca Comunale il libro L'Incommensurabile Presente, la seconda opera del poeta karateka Filippo Mitola. Durante la serata il presente dell'Associazione Nino Gargano ha dialogato con l'ottore sui temi del libro e come coniugare scrittura e sport. Sono stato coinvolto piacevolmente da Filippo Mitola in questa esperienza, non è la prima per me come presentazione di un libro, ma vedo che la serata propone degli argomenti abbastanza piacevoli. E che dire, Adelfia è il paese delle eccellenze e Filippo rappresenta una di queste eccellenze, un raro esempio di campione dello sport. Ma chi è Filippo Mitola? È un maestro di karate, cintura nera Sesto Dan, già campione mondiale al World Master Game di Torino nel 2013 e riconfermato con loro lo scorso 18 novembre al Master 2018. È stata una bellissima esperienza perché il gruppo Master Pugliese si è presentato con 13 atleti e abbiamo bensì conquistato quattro medagli d'oro, due d'argento e cinque di bronzo, oltre due trofei della Coppa Italia. Quindi siamo stati la prima regione in Italia a conquistare tutta questa roba qui. È stata bellissima, bellissima. La scrittrice Maria Francesca ha interpretato alcuni passi del libro, agliettato anche dalla musica e dalla danza del gruppo Inanduo. Scrittura, sport, danza e musica e perché no anche cucina. In effetti la serata si è conclusa con un ricco buffet offerto dal gruppo Facebook Cuochi Dilettanti.